Ciao Rudy, 21esima edizione, torneo femminile Olimpia, 18esima edizione. Dopo un biegno di stop per Covid, a Pesero torna la tradizione dei tornei di basket di Pasqua e torna con i suoi grandi numeri. 126 squadre iscritte, di cui 67 maschili e 59 femminili, 2000 atleti coinvolti, 1000 genitori al seguito, 295 partite da giocare in 21 impianti fra Pesero, Vallefoglia, Monte Labate, Vitrifrigo Arena compresa. Numeri robusti che fanno bene alla vocazione di basket cittadina e alla ripartenza turistica, ma numeri che potevano essere ancora più importanti, considerato il gradimento nazionale riscosso dalle manifestazioni. Finalmente direi, perché veramente i numeri sono super eccellenti, perché avevamo annullato il torneo del 2020 dove avevamo addirittura tra maschi e femmine 180 squadre. Il problema è che abbiamo dovuto ridurre i numeri perché la problematica è che sono legate agli alberghi, quindi potevamo arrivare anche quest'anno intorno alle 180 squadre. Abbiamo chiuso a 126 proprio perché molti alberghi sono chiusi, quindi aprono il primo di giugno per i motivi della guerra, aumenti di carburante, luce eccetera, quindi aprire quattro giorni per molti alberghi non aveva senso. Diversi sono in ristrutturazione, quindi con il numero che avevamo abbiamo dovuto fare i conti all'arrovescio, cioè non è che abbiamo detto portiamo 200 squadre e tanti gli alberghi ci sono, no, quante squadre possiamo portare, quanti alberghi possiamo contare e siamo arrivati comunque a questi numeri. Innanzitutto va detto che quest'anno la federazione, oltre ad averci supportato dopo varie vicissitudini, sarà presente appeso con tutto lo staff, lo staff del Cia, il vicepresidente FIP, e quindi saranno qui per tutto il torneo presenti e vigileranno anche chiaramente sul torneo. Le date sono ormai le classiche, quelle del venerdì santo come inizio e le finali lunedì mattina di Pasqua in modo tale che poi le società verso il pomeriggio poi possono prendere la strada di casa. Siamo abbastanza preoccupati, non tanto per il livello organizzativo, perché ormai abbiamo le spalle coperte, abbiamo le spalle grosse. Il problema è tutto, potete immaginare tutto quello che c'è dietro, cioè si riapre dopo una Covid e quindi dietro c'è tutta una preparazione per il Green Pass, tutte queste cose qua che sulla carta sembra una cosa semplice. Vi assicuro che è una cosa che non si può immaginare. Gratificazione, responsabilità e coraggio di ripartire dopo il Covid, ma anche qualche amarezza per i numeri e gli arrivi mancati. Se Peso vuole fare questo tipo di manifestazioni si deve rendere conto che anche l'associazione albregatore e gli albregatori devono in qualche modo collaborare, anche se questo può costare un sacrificio, aprire due giorni prima, tre giorni prima. Capisco che può essere un sacrificio, può essere qualsiasi cosa, però ci si mette d'accordo e bisogna collaborare perché non vi nascondo che mi hanno avuto diverse difficoltà. L'Apa Hotels, partner dell'iniziativa, fa capire che si è fatto il possibile. Il periodo non è dei migliori, siamo in un periodo di ripartenza. Noi impegniamo con questo evento circa 15 strutture su Pesaro. Molte strutture attualmente stanno completando le ristrutturazioni per presentarci con nuovi servizi alla nuova stagione. Quindi devo dire che a mio avviso è stato un buon lavoro di equilibrio tra le problematiche che ci siamo portati dietro dal Covid e la volontà di ripartire. Ci sarà qualche albergo in meno, ma ci sarà qualche servizio in più. L'Apa come soggetto a fianco degli organizzatori ha proposto e sta sviluppando dei servizi collaterali per tutti gli atleti che verranno, per i genitori che seguiranno l'iniziativa. Sono delle convenzioni che noi proponiamo allargando ai ristoranti, allargando alle attività pesaresi e oltretutto diamo anche delle scontistiche e facciamo delle iniziative legate alla cultura. Quindi proponiamo in partnership con i musei di Pesaro la visita al museo, con la Sonosfera possiamo organizzare delle visite e abbiamo delle facilitazioni per i gruppi che verranno a Pasqua e organizzeremo il 16 di aprile alle ore 17 una visita guidata gratuita per tutti gli accompagnatori che vorranno partecipare a Pesaro.